Silvio Berlusconi, non riesco, non riesco, non riesco, mi viene da piangere quando penso Silvio Ma no, ma dai, lascia stare Come lascia stare? Ma ce l'ho tutti con lui, che è che ho? Appunto, ma ci sarà un motivo, e perché ce l'hanno con lui? Perché? Perché, perché lui è un uomo solo, e ce li ha tutti incontro Ma lo sapete no, che questo qui è un miliardario Poteva stare tranquillamente in una sua stanzetta, a organizzare festiciuole E invece è sceso in campo Ma chi gliel'ha chiesto? E l'ho fatto per noi, sì E questo è il risultato dei comunisti Qui siamo a casa sua Ma stai zitto, vai, vai via Ma nonostante questo, anche ci sono la sua E nonostante questo E noi che cosa? E invece è costretto a organizzare questi summit lì, con quelli del polo E quindi la sua stanzetta E quindi molto bene E poiถ Huombo Che �みたい